Un caro saluto da Lord Vincent Lyonath, il vostro poeta, paroliere, autore e scrittore preferito. Ovviamente non scrittore di romanzi né di racconti, ma di testi di canzoni. Like a questo video. Buongiorno. Buongiorno a chi attraversando l'oscurità ritrova la luce, a chi nonostante tutto non perde il sorriso, la voce, a chi ricorda sempre a se stesso che questo mondo dovrebbe essere un reale paradiso. Questa posia è tratta dal mio libro Poetici Attimi Cantanti.